Aveva il vizio di spacciare Ascis per barcare il Lunario, ma ora è nel carcere di Villa Fastici. Nella notte del 5 settembre, infatti, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato nel suo appartamento un uomo italiano di 37 anni, con precedenti per lo stesso reato, residente a Borgomassano, frazione di Monte Calvo in Foglia, dopo un lungo periodo di indagini durate mesi. I dettagli dell'operazione sono stati illustrati questa mattina presso il comando provinciale dell'arma, dal Maggiore Patrizia Gentili, comandante della Compagnia di Pesaro, dal Maresciallo Maggiore Angelo Giabani, comandante della stazione di Montecchio di Valle Foglia e dal Maresciallo Alfredo Severini, comandante della stazione di Tavoleto. Le due stazioni, simbolo della capillarità dell'arma sul territorio, hanno collaborato molto durante le indagini, che si sono rilevate lunghe e faticose, considerando che sono state sviluppate alla vecchia maniera e senza particolari ausili tecnologici, come intercettazioni o unità cinofile. Pedinamenti, appostamenti, verifiche, perquisizioni, una lunga serie di operazioni che hanno stretto il cerchio intorno allo spacciatore che operava prevalentemente in casa. Durante la perquisizione, i militari hanno faticato non poco a recuperare lo stupefacente, che lo spacciatore aveva abilmente nascosto nel doppio fondo di un mobile. Ma alla fine sono saltati fuori quasi due etti di hashish, insieme a bilancini di precisione ancora sporchi, segno che fino a poco prima si erano svolte le operazioni di spaccio, oltre al materiale per il confessionamento delle dosi e 190 euro in contanti ritenuti frutto dell'attività illecita che è stata valutata in diverse migliaia di euro al mese. Perquisite anche diversi automobili dei clienti che sono state segnalate alla Prefettura come assuntori. I carabinieri hanno voluto concludere l'operazione proprio in questi giorni perché ritengono che il giro dei clienti dello spacciatore comprendesse anche diverse scuole della zona e hanno voluto stroncare questo traffico pericoloso prima dell'inizio delle elezioni. Ci tengo a precisare che questa è stata un'attività fatta in grande sinergia tra le stazioni che hanno collaborato e che da mesi effettuavano controlli nei confronti di questo soggetto con anche qualche sequestro di sostanza stupefacente che veniva venduta a alcuni soggetti che andavano ad acquistarla. Quindi noi capiamo e vogliamo dimostrare anche con questa operazione che c'è un'attenzione che riguarda anche i ragazzi che frequentano le scuole perché secondo noi questo soggetto poteva venduto, poteva vendere, poteva continuare per il futuro a vendere droga anche che poi sarebbe stata indirizzata all'ingresso di numerose scuole della provincia. Sappiamo che questo soggetto ha rifornito persone provenienti sicuramente non solo dai comuni di Tavoleto, di Montecchio ma da tutta un'ampia parte del territorio provinciale della provincia di Pesaro Urbino, quindi andando dai territori di Tavoleto e Montecchio al territorio di Tavundia, di Urbino, della costa. Quindi c'era un grande giro di vendita di droga.